Nations League, doppietta di Colomboani, la Francia vince in Belgio. Nations League, la Francia vince in Belgio, grazie a Colomboani. Nations League, la Francia vince in Belgio, grazie a Colomboani. In una emozionante partita di Nations League martedì scorso, la nazionale francese ha avuto la meglio sul Belgio, con un punteggio di 2-1. L'uomo della serata è stato il giovane attaccante Randal Colomboani, che ha segnato entrambi gol per i francesi. Die Begegnung fand im König Baudouin Stadion in Brüssel statt und bot den Zuschauern einen intensiven Schlagabtausch, der die beiden Fußballnationen auf die Probe stellte. Die Partie begann mit einer hohen Intensität, wobei Belgien frühzeitig versuchte, das Spiel zu dominieren. Trotz der anfänglichen Überlegenheit der Gastgeber war es Colomboani, der den ersten Nadelstich setzte. Die Traduzione in Italiano è L'incontro si è svolto allo Stadio Rebaudouin di Bruxelles e offerto agli spettatori uno scambio intenso di colpi, mettendo alla prova le due nazioni calcistiche. La partita è iniziata con un'alta intensità, con il Belgio che ha cercato di dominare il gioco fin dall'inizio. Nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa, è stato Colomboani a mettere a segno il primo colpo. L'attaccante ha segnato il primo gol al 24-3 un minuto, dopo aver trasformato un preciso cross di Antoine Griezmann. Non appena la squadra francese ha preso il comando, è successo l'inevitabile. Il Belgio ha risposto con un gol del pareggio di Romelu Lukaku, che ha segnato al 37-1 minuto da breve distanza. Il primo tempo è terminato in parità, tuttavia la squadra francese si è mostrata determinata a prevalere. Nella seconda metà, la situazione si voltò nuovamente a favore della Francia. Colomboani, che si era rivelato indispensabile nel corso della partita, riuscì a riportare in vantaggio la squadra al 100-2 minuto, con un freddo completamento dal centro dell'area di rigore. Con questo gol, il suo secondo della serata dimostrò le sue straordinarie abilità. Il Belgio ha tentato disperatamente di pareggiare, ma la difesa francese si è dimostrata solida e inespugnabile. La partita ha messo in luce una forte prestazione di squadra. In particolare la difesa dei francesi ha convinto sia dal punto di vista tattico che fisico. L'intera squadra ha lavorato insieme per respingere i pericolosi attacchi dell'offensiva belga. Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps ha elogiato dopo la partita la prestazione dei suoi giocatori, in particolare Colomboani, che si è affermato come giocatore chiave in un incontro decisivo. I tifosi di calcio francesi possono gioire per questa importante vittoria in Nations League, che alimenta le speranze di una campagna di successo in questa competizione. La vittoria contro il Belgio, una delle squadre più forti d'Europa, è un risultato significativo e fa sperare in un ulteriore sviluppo positivo del calcio francese. Ecco la traduzione del testo in italiano. Resta da vedere come si comporterà la squadra nelle prossime partite, ma l'esibizione in Belgio rappresenta sicuramente un passo incoraggiante nella giusta direzione. Autore Anita Fache, martedì 15 ottobre 2024